ragazzi video veloce veloce almeno spero e su bar del fumetto mi è capitato un articolo interessante riguardante resident evil dal momento che devo anche riprendermi dalla batosta dopo aver visto questo film dopo aver visto quella bominio di film forse può darsi che sia la volta buona forse su netflix potrebbe uscire da quel che ho letto una serie televisiva di resident evil e già dire sede televisiva significa maggiore contenuto significa prendere le cose un po per volta dando spazio a tutti i protagonisti della saga almeno questo è quello che credo è quello che farei io se facessi una serie di resident evil ma vi leggo l'articolo è da poco filtrata la notizia secondo cui netflix avrebbe in cantiere una serie tv ispirata alla celebre saga videoludica di resident evil la notizia è stata diffusa da un adetto ai lavori proprio di casa netflix secondo questo rapporto si dovrebbe trattare di una storia molto vicina alle trame e alle atmosfere della classica serie videoludica con resident evil 0 come punto di partenza della storia stessa inoltre la prima serie dovrebbe avere una durata più estesa in modo da poter ospitare gli eventi di resident evil 0 e di resident evil 1 la serie sarà esclusiva di netflix così come è stato vabbè le altre serie che adesso non vi sto a citare comunque sia se quello che dicono è vero la serie televisiva dovrebbe rendere più giustizia a resident evil io lo spero se così sarà allora tanto di cappello io spero che andrà in questo modo ragazzi perché il film di resident evil anzi i film di resident evil non hanno reso giustizia al videogioco e siccome io amo la serie di resident evil io spero che questa sia la volta buona quindi quando uscirà e quando avrò modo di vedere almeno il primo episodio se riuscirò a vederlo vi dirò le impressioni che mi ha fatto ok ciao a tutti da charsely ray resident evil io spero che mi ha fatto ok ciao a tutti io spero che mi ha fatto ok ciao a tutti